Mi sa, questo lo sento scarico Sto pacchetto, raga Come si fa? Con l'accendino? Aspetta E volevi! Guarda come si fa Tagliere Coltellino chirurgico Greenscreenato Voilà Perché è fermo? Che ho fatto? Perché tagliate le carte? Ah, sono un mio ambicille Lo sento dove è duro e dove non è duro 14 anni dopo Ah, è incredibile questo odore, è incredibile No, sta di cappella Lo volete? Interessa? Ma che cosa servono questi troiai? Così fanno i veri streamer Quelli fanno i streamer seri di Pokémon Attenzione Attenzione Paga subito per i miei due pacchetti? Oppela 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 Charizardino per il meme? Pronti via? Un Charizardino GX per il meme? Oh Latios subito Questa però non paga, eh Non paga, no Se me lo dice Fabione Però comunque è bella Latios, eh Si parte bene Si parte carichi Totodile Attenzione Sgrudolino Coccodrilino Skincaro Litten Purloin Pikachu Attenzione Carino Ultima Manno un'ultima Dedicata a Danny Thief Fiero Fiero Pogu E Godopoli E Godopoli E Godopoli Bah BUM D D Fiero! Fiero! Subito così! Amparos V che varrà tipo tre centesimi e mezzo. Mi sa, questo lo sento scarico sto pacchetto, riga. Lo sento? Oh my God! Spossimo? Tutto metallizzato? Tutto sbrillanticuccio? Spossimo? Vedete che la musica fa tutto? Per jam, skateman, radiohead. Oppela! 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 Cosa succede qua? 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 Senti le radiohead come spingono! Senti come spingono! Senti come spingono le radiohead! Senti come spingono le radiohead! Senti le radiohead! Ma che culo! Ma questo vale, oh! Questo varrà qualcosa, cioè, nella copertina del Joe. Guardate che figo, però! Un po' damarro, eh! Gigant Max, addirittura! E? Pensavi! Col cavolo! Quasi! Quasi! Il NOS BRI non varrà un cazzo! Non varrà un cazzo, sì, infatti! Eh, c'è un problema! Ho comprato quei... Allora, sì, vi l'ho comprate! Però, siccome sono un pezzo di merda! Ho comprato queste! Che so belle rigide! Solo cosa succede? Che quando ci metto all'interno la carta, ok? A parte che non scorre fino in fondo! E poi non so più come... E poi non so più come tirarla fuori da qua dentro! 10 tonneri... Mutati via! Intanto le ho poggiate dentro! Domani comprerò le sleeve delle sleeve e... Ehm... Provvederò al... A rimettere! Tegamino! Ma è un clickbait! Oh? 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 Ma che tier list di merda è? Boke live di merda, mamma mia! Ho mi svegliati... Oh? 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 Grazie a tutti